Il Festival dell'Eccellenza Femmine si insedisce in marzo donna 2018 Lazzare Felici del Comune di Napoli in collaborazione con l'Università Federico II presenta una serie di iniziative sulle donne e i beni culturali. Parte domani in collaborazione con il Festival MAN con un incontro alle ore 18 con Tita Fiore e Mariangela D'Abraccio dove si parlerà di un tributo al femminile alla storia dei beni culturali di Napoli cioè Edoardo e Pino Daniele. Poi ci sarà lo spettacolo la sera Napoli è nata storia con Mariangela D'Abraccio e musica da ripostiglio al Festival MAN alle ore 21 al Museo archeologico il 27 di marzo. Poi avremo il 28 di marzo ricordiamo alle ore 14 in via Porta di Massa Una donna può tutto, le streghe della notte con Ritana Armeni, Laura Valente e la professoressa Francesca Marone Poi avremo il 29 mattina al Museo del Tesoro di San Gennaro un incontro su San Gennaro e le donne con la visita guidata del museo, una visita tematica dove sarà presente Evanda Marasco, Silvio Perrella, Sara Lubrano, Paolo Iorio e poi ancora nel pomeriggio la presentazione del premio Ipazia alla nuova drammaturgia sempre in via Porta di Massa alle ore 15.30 avremo Angela Di Maso, Agnese Palumbo, Pina Marelli e sarà il lancio di un premio di drammaturgia dedicato al tema del festival di quest'anno che sono le donne e i beni culturali.